E salve a tutti ragazzi e bentornati sullo studio d'ATP, io sono VTX e sono sempre in compagnia di... Ciao, sono Vita di Unigenzeta E signori bentornati sulla Skyblock, siamo nella seconda puntata dove vogliamo fare un sacco di cose come ampliarci l'isola principale Vogliamo andare a visitare l'isola del Land lì, vedo una cesta e alcuni blocchi molto simpatici Signor Vita, lei ha qualcosa da dire? Spermian, osmolish Oh, è cresciuto l'albero No no, volevo dire che... Una alla volta Ora come ora Espandiamo quest'isola, poi dopo ci andiamo direttamente all'isola del Nether Nel mentre farmiamo anche un po' di legna, di questa roba qua Perché poi penso che nell'isolotto principale ci metteremo a costruire tanta bella roba Magari miglioriamo anche i ponti che collegano le varie isole Comunque signori, grazie mille del supporto che ci avete dato nella prima puntata Abbiamo veramente fatto bei numeretti Finalmente stiamo trovando il nostro piccolo fandom, lo stiamo creando, ci stiamo riuscendo anche Questo ci fa molto piacere In descrizione trovate i social Trovate i DigDog La postiamo le memate Signor VTX, ne volevo fare una domanda Mi dica Mi dia la Gobleston, grazie Ok, tutta quella che vuole, la metto in questa cesta Non me la passa tramite come fanno tutti normalmente Work smart, not hard Ragazzi, se volete un episodio studio d'app in macchina Immagina lavorare e stare nella smart studio d'app in macchina Beh, effettivamente sarebbe particolare perché ci saremo noi con le facce tutte pixelate, censurate E tantissimi meme Giorno faremo il face reveal, quindi non preoccupatevi, guarderete anche la mia faccia Un po' come Dream Dream è un po' meno famosi Prendi la Gobleston, facciamo un sacco di slab e poi allunghiamo l'isolotto Ok, zoomer Io potresti mettere come jumpscare nel video la mia foto profila e capire se non estremamente io Ma non lo farò perché sono un bravo ragazzo e non voglio far prendere uno spavente i nostri followers Esattamente, procederà a metterlo il secondo dopo Non è vero, potrebbe partire nel momento qualsiasi Allora, aspetta un attimo, lì ci sono degli shulker Quei shulker se ti prendono ti fanno volare per un tot di tempo Oddio fra, vedi come fanno i colpi che ci inseguono È vero che cazzo Se ti colpiscono ti fanno volare per un tot di tempo, cioè tu fluttui E può essere pericoloso perché poi se cadi, cadi nel vuoto Dobbiamo trovare un modo per andare in quell'isola in modo sicuro Facciamo una cosa intelligente Posso tutto quello che ho Tranne la mia asce in legno Sì sotto le pere Ragazzi sì, sarà un po' difficile andare su quell'isolotto, io ve lo dico Ecco, vedi che voli? Mucate, mucate, mucate Oh, ma che è sto rumore strano? Oh, oh, oh Si opera Vola, vola, vola Che quando è Yaku? Aspetta, mi servono due slab in croce Come sai che faccio? È un percentuale speedrun? Forza verso i mob Perfetto, ho costretto il collegamento Adesso dobbiamo solo ammazzarli Oh, ma sono quattro Eh, sono un bel po' perché ho visto un sacco di merdine che partivano Ok, aspetta, ho un'idea No, un cazzo, un'idea Però ti beccano lo stesso Io posso riscendere di nuovo Madonna di Dio Ma c'hanno un botto di vita sti basta Cioè, perlomeno io con la spada Magari ci ho provato in un modo più intelligente Ma dai, proprio con la zap Allora, ma questo qua è tutto non farsi prendere E non è impossibile perché è troppo piccolo lo spazio È di speedrun, non farsi prendere No, mi sono fatto prendere Oh, una è morta, l'altra Sono là Morta Non è vero, si tippata, si tippata Sì, si tippata Morta una, eh sì, lo so L'altra, l'ultima Morta Sta ancora all'attacco No, oddio, 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 oddio Un rotto di mascolino C'è, c'è un altro Oddio C'è un altro No, c'è l'attacco che mi sta inseguendo Anche se sono morta sti bastardo Madonna, comunque è davvero Quanto cazzo viaggia l'attacco, eh Uh, diamanti I razzi non servono alle canne Andiamo bene Ma io non ci penso Ma i razzi non servono a volare Sì, con l'elitra Ma dove sta l'elitra? Parli, si può pure mangiare il frutto di corus Però c'è anche il fiore Ah, ma ti tippa quando lo mangi Ti tippa Dove ti tippa? No, a caso ti tippa Non lo fare lì perché non vorrei mai Dio che ti tippasse fuori dalla mappa Chiedo Venia per quelle urla poco mascoline di prima Cioè, mi sono visto il colpo in faccia Quindi che cazzo ci sta in sta zona? C'è questo fiore di corus che non so a cosa serva Se non sbaglio però possiamo sempre piantare un'altra volta A parte che è sponato un ragno sull'isola Abbiamo anche le Endroad che sono bellissime Ma l'isola del land è piena di mob, quello è il problema Sai che sarebbe una figata mettere delle lanterne qui? Renderebbero tutto molto più estetico, lo sai? E l'end sarebbe perfetta da metterla tipo allo start del ponte Caprici subito, stai andando verso la zona dell'end Ci sono altre, tre Endroad le mettiamo qua Poi prendiamo il cercolo perché voglio andare un attimo a illuminare quelle zone che sono molto oscure Eh beh, giustamente, pure quello è vero, zio, vero? Lo zio con la vera a fianco Altri sì, come un asciuto Come un asciuto Quanta cobblestone abbiamo a proposito? Non molto, sinceramente, vorrei averne di più Ah, vuol dire che la stiamo usando tutto per ingigantire il pisello Stavo per dire la stessa cosa, lo sai? Ormai noi abbiamo la stessa comicità Io che faccio l'ennesima battuta sulla sbord Oh cazzo, no, 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 non mi conviene assolutamente mettere le torce sull'isola di sabbia Ci stanno i zombie, c'è uno zombie, un creeper A parte pure il fatto che possiamo anche andare sull'isola qua del Miele Con quelle bellissime due pecore là sopra Farma di sbord E come si farma la sbord? Allora, devi prendere un essere umano maschio E devi lavorare, no? Una volta che lavori che fai, vai, scusa? Una volta che lavori, vedi, ottieni il risultato del tuo lavoro E scoprirai quanto è utile il capitalismo Dammi le torce che vado a illuminare un po' la zona Complimenti, hai appena sbloccato il sesto Ma come fate a dire che siamo simpatici Che facciamo sempre le stesse battute? Quanti bob? Ma c'è delle disborre Non ho un mini zombie, un ragno Uno zombie, un ragno Un mini zombie, un mini ragno E vabbè, attacca me, attacca me Mi sto mettendo una cazzo di caga Che qua non ci vuole veramente niente accadere Comunque stavo dicendo Noi non dobbiamo avere dei figli Immagini di avere dei figli e fare La lulla, è lulla Ti faccio di immagini, tipo Trovi una ragazza Io amo questo ragazzo Perché è una persona così seria Sempre lui La lulla E lulla Ma posso farmare la sborra? Sì Nice opinion One small issue I am inside your pussy Quell'isola di bedrock piccolissima lì sotto Ma che serve? Secondo me sì Ci sarà pure qualche cesta Qualche cosa così, capito? Ok, abbiamo costruito il ponte comunque O andiamo verso Vedi quell'isolotto Quindi una volta che andiamo nell'isola del miele Poi ci espandiamo bene l'isola E ci mettiamo qua a farmare Oppure continuiamo a espandere la zona Il ponte per l'isola del miele Sarà il primo ponte che salirà Perché vedo che l'isola è bella altina Rispetto a questa qui Dobbiamo fare una scalinata Signori Siccome anche il signor Vita di un genzeta Nella scorsa puntata L'ha fatto Io sono quello che si è escluso Ma signori Siccome abbiamo raggiunto I 9.88 like nel video Dell'isola Se non mi sbaglio Anche la mia ora è giunta No, in realtà mi ammazzo Perché sono basso di fame Wow, che è quell'isolotto dietro Non girarti Però ti dico c'è un isolotto a destra Ah, quello è del chunk del nether Ma quello è Glouston Bellissima Oddio c'è anche un'altra isola appresso Ma ora ti immagini che sotto Quest'isola c'è un alviare Grosso quanto una casa Tipo se spacchiamo i blocchi Si incassano le api Dobbiamo correre Come si spacca leggerissimo il miele Ma quest'isolotto Non è che magari serve Ad avere una farm di miele So che si può fare la farm di miele Ma non so manco a che serve in realtà Vedi come ha formato un bel cerchio perfetto L'isola principale E direi modo di espanderci Signori, questo video giunge al termine Abbiamo fatto progress Dai, non mi lamento Abbiamo fatto una bella cosa Ci siamo espansi Abbiamo fatto il ponte safe Per l'isola della sabbia Abbiamo raggiunto l'isola del miele Si sta anche facendo notte Purtroppo mi aspettavo un po' di più Da quest'isola del miele Però non fa niente lo stesso Perché sicuramente c'è un modo A noi sconosciuto In cui possiamo usarla meglio Una delle prime cose che faremo off camera È farmare un botto di cobblestone Per ampliare l'isola principale Nella prossima puntata Vedremo cosa fare nella prossima puntata Guardate che risposta molto help